Quando eravamo passati a intervistare uno dei soci a fine maggio, la situazione era ancora questa, in un territorio fragile e da mettere in sicurezza. Oggi non c'è più acqua e si può camminare tra i capannoni, ma nessuna produzione è ancora ripartita perché vanno terminate le bonifiche. Ci aspettiamo di ripartire con la prima attività che sarà quella della raffinazione degli oli in 15 giorni, con tutte le produzioni a fine estate. Il nostro spirito non è mai andato sott'acqua, quindi ripartiremo come eravamo prima il più presto possibile.